Ciao ragazzi e ragazze sono... Tutti ragazzi e ragazze sono del mio giro che ne muovono il spazio Vabbè, iniziavo soltanto con il nostro prevenza Normale comunque perchè... Mi sono svegliato ancora Ho voluto fare il video Vabbè, com'è? Iniziavo solo con i canzoni per la scuola L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto perchè lo stanno alle calcanti E' stato fatto Non no, troppo e non chiuso Ciao Miau E' spazzetta che vedrete I'm not gonna Ho Lo I'm not Allora, quel volozzo non mi ha visto quello che vuole. Allora, quel volo non mi ha visto comunque. Non so se doveva fare 4.30. 8.000 alcuni pezzi. Non so se doveva fare 4.30. Non so se doveva fare 4.30. Per 6.30. Per 6.30. Per 6.30. Non so se doveva fare 4.30. Ci basta arrivare solamente per 6.30. Non so se doveva fare 4.30. Grazie a tutti. 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 a tutti.